L'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio ha incontrato gli imprenditori della provincia regionale di Caltanissetta, presso la Camera di Commercio dove ha presentato i bandi Bonus Energia Sicilia e Ripresa Sicilia. L'evento è compreso nel tour che si svolgerà presso le sedi delle Camere di Commercio siciliane, programmato dall'assessore per incontrare gli imprenditori dell'isola, conoscere le esigenze delle aziende siciliane e presentare le due misure messe in campo dal governo Schifani. Stiamo facendo un tour in Sicilia presso tutte le Camere di Commercio, oggi con grande piacere sono qua a Caltanissetta, visto che c'è tanta gente, tante associazioni di categoria, mondo degli ordini professionali, illustreremo il bando Bonus Energia dove abbiamo messo 150 milioni di euro per le aziende e poi il bando Ripresa Sicilia che fa parte del pacchetto Compensibilità Sicilia. è un modo per far rilanciare le aziende dopo il periodo della pandemia, è un modo per stare vicino alle aziende e per dare nuove opportunità per rendere sempre più attrattiva alla nostra terra. Grazie. Grazie.